Ciao ragazzi, benvenuti a tutti i miei canali e io sono Magnus a grandissima richiesta, visto che mi avete mandato una marea di inviti per giocare insieme tra cui uno addirittura me l'hanno mandato i tre contemporaneamente li ho accettati tutti quanti stiamo sempre qui su Battlelands Royale per cercare di fare questa prima volta un duo e se va bene magari possiamo caricarne anche degli altri è un pochettino complicato perché non è che vi ho fissato un orario accediamo all'applicazione, al gioco e vediamo se c'è almeno qualcuno di voi online naturalmente passatevi un video come se ne avete un po' un bel commento, un bel mi piace mandatemi una richiesta perché danno tranquillamente l'accetto e se ci siamo giochiamo insieme detto questo ci vediamo in partita allora, se uno ci dovrebbe essere ah, XiuGamer mi ha mandato l'invito vabbè, ci vediamo direttamente in lancio su XiuGamer, speriamo di fare una bella partita allora, primo lancio siamo vicini o almeno così pare, sì non credo che siamo atterrati in una buona zona tu c'hai già il cecchino io per adesso non c'ho niente proprio zero spaccato mai capitato, mai capitato è vero la prima partita che faccio in due ok, tu già sei andato io non c'ho munizioni abbiamo munizioni ma non ho niente là c'è uno scudo oh, oh, oh un'arma, un'arma, un'arma ok il problema è che adesso sono solo facciamo una cosa facciamo una cosa, ci becchiamo anche lo scudo siamo in inferiorità numerica? sì ok poi ce ne sta uno qua dentro tipo muori? no? non muori eh è l'under vediamo uno alle spalle uno a destra due a destra cavolo vabbè la prima partita credo che sia andata male eh accediamo alla seconda che forse è meglio ok vediamo se stavolta siamo un pochettino più forti male cioè dico almeno becchiamo aia dico almeno becchiamo un'arma ok il cecchino quello che col cecchino sapete che mi trovo veramente bene attenzione a questo attenzione a questo aia aia o lo stavo dicendo col cecchino mi trovo bene e poi alla fine siamo morti questo insiste cioè proprio ci volevo proprio tanto bene vabbè noi siamo morti mentre invece xgamer è ancora vivo tieni alto in olio della bandiera amico cerca di andare avanti di non morire attenzione ti stanno sparando ok andiamo con la secola terza che forse è meglio allora che dire la prima partita sei morto tu la seconda partita sono morto io ma che facciamo vinciamo tutti e due aia perché sempre queste munizioni ok sono accerchiato ve lo dico attenzione dov'è che ah stai di qua stai direi di riunirci perché se giochiamo insieme è meglio ah ti stanno anche già attaccando fantastico vai si beccati il medikit beccati il medikit non te lo becchi ah becchi prima sei accorto di munizioni vai ok perfetto oddio non sei ancora al massimo della carica però almeno riusciamo ci sta questo vediamo se riusciamo a vendicarci tipo ok no è troppo lontano quest'arma questo non ho capito se è il buono ok mi sa che devo curarmi un attimo qua c'è un fantastico scudo guarda ci sono solo le munizioni tipo se se trovassi un medikit sarei un po' contento eh tipo ecco appunto qua ce ne sta uno che ci sta attaccando non è per niente ma a me praticamente se mi beccano mezza volta moriamo ecco niente è morto aspetta aspetta vediamo se la facciamo aspetta aspetta ok ok almeno aia stiamo siamo anche fuori save porca la paletta dobbiamo rientrare all'istante ce la faccio a beccare il medikit dai 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 ok 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 medikit becchiato però tu stai ancora un pochettino rovinato attenzione ok andiamo dentro andiamo dentro aia questo non muore no questo non muore mai beccati il medikit dai io mi becco questo qua giù dov'è che ce la possiamo fare adesso attenzione si camminiamo affiancati affiancati ma affiancati ma andiamo bene forse ok quanti ce ne stiamo ancora ah dieci quindi praticamente siamo cinque attenzione attenzione che ce l'abbiamo uno alle spalle anche uno a destra due a destra aia questo cavolo 50 ho visto bene 50 questo è un problema perché qua ci abbiamo il labirinto aia eeeh aia il problema sai quale attenzione sai qual è il problema è che adesso che cavolo facciamo qua dentro cioè questo mo' si restringe diventa un'impresa stare all'interno del del labirinto io mi vorrei anche buttare però che facciamo andiamo qua dentro secondo me non è una buona cosa fare dentro l'abirinto ecco vediamo un po' dove si chiude il cerchio e io andrei di qua attenzione che ce ne stiamo di qua dai dai aia aspetta che mi sta beccando dai perché non c'ho più munizioni non c'ho niente che facevamo siamo stati sfortunati in questa partita perché se avessimo beccato più munizioni è vero che siamo arrivati terzi però secondo me avremmo potuto fare una partita migliore vabbè siamo stati sfortunati secondo me perché munizioni zero spaccato me ne sono pure accorto tardi perché non c'avevo più munizioni ok vorremmo a vedere se riusciamo oh bello c'è un razzo là se riusciamo a fare una partita migliore anche se prima questo è il brutto del cecchino che il cecchino ha pochi colpi un po' tanti questa poi fa la mitaglietta se no non è delle peggiori cioè non mi trovo ecco infatti questa già è meglio perché è vero che spara più colpi però non spara a distanza quindi andiamo veramente male allora di qua dici che andiamo sopra cecchino se aspetti un attimo aspetta io mi sto beccando un attimo quello che parlo vabbè lasciamo vedere dovrebbe esserci no il cecchino non lo voglio becchiare perché dopo la partita di prima siamo stati un po' fregati che dice andiamo per le fresche frasche sì secondo me non è una cattiva idea soprattutto qua internamente come approccio munizioni sono di là però mi sa che è meglio aspetta che qua ne vedo anche tanti porca misera tutti addosso a me ok gli stai attaccando aia si è arrivato a terra cioè praticamente questi sono su 30 ok non l'abbiamo atterrato questo non muore non so quanti ne avevano atterrati ok uh c'è anche la cassa no sono spacciato attenzione aia aia ok mannaccia ci hanno fregato uh si chiude stacca comunque è molto più veloce e più rapido rispetto agli altri adesso ne vado tra le fresche frasche magari cerchiamo di proteggerci ho un problema perché mi dovrei anche curare tra parentesi l'arma non è niente ah non abbiamo manco proiettili porca paletta vai vai ok meno male che abbiamo beccato la stessa arma mi occorre tantissimo insisto col cecchino un medikit attenzione a questo questi sono due questi sono due non ce la farò mai in due non ce l'avrei mai fatta da solo in due vabbè non è stata una brutta partita sicuramente quella di prima abbiamo giocato sicuramente molto molto meglio beh che dire ragazzi mandatevi sempre gli inviti lo sapete lo accetto se vi becco online e se vi piacere magari possiamo fissare un appuntamento così magari è più facile che riusciamo a giocare insieme perché ho visto che in determinati rari ne siete di più in determinati rari invece c'è praticamente quasi nessuno naturalmente come è stato tutto un video come stiamo vedendo un bel commento un bel mi piace ci vediamo nel prossimo video Bye